Michele Merla, sindaco di San Marco Illamis. Sindaco, cosa deve fare questo territorio per organizzarsi al meglio per il 24 e il 25? Deve fare quello che ha iniziato a fare, cioè nel senso che deve stare insieme, deve coinvolgere il territorio attraverso i comuni, come stiamo facendo, attraverso una serie di iniziative che questo territorio deve mettere insieme. Parlo dei sentieri, parlo della comunicazione che deve fare attraverso i siti istituzionali, deve far conoscere il nostro territorio attraverso le iniziative che in questi mesi abbiamo fatto, che in questi anni abbiamo fatto e soprattutto si deve far trovare pronto dal punto di vista sia della infrastrutturazione del territorio sia dal punto di vista dell'accoglienza. Questo deve essere il nostro segreto, perché l'area interna, il Gargano non è solo area marittima, ma è anche area interna. San Giovanni, San Marco, Monte Sant'Angelo sono, credo, una delle zone interne più belle d'Italia e attraversarle significa conoscere il nostro territorio e farlo conoscere. Io credo che questo debba essere il segreto e poi dobbiamo fare una serie di eventi che rilancino questo territorio dal punto di vista religioso e dal punto di vista anche del turismo esperienziale.